I sovieti e l'elettricità non fanno comunismo anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano lunga vita al presidente lunga vita al presidente a Stalingrado non passano a Stalingrado non passano a Stalingrado non passano a Stalingrado non passano a Stalingrado non passano